musica 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 sta un po' di gente si ora si 120 però è veramente schifo sto cercando di bloccare uno ah il lanciano è id ce l'hai sopra uno merda ah si carriami carriami senpai vado in bagna a fare pipì carriami aperti la situazione non è proprio delle migliori eh musica 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 è è è è è è Oh Grazie. 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 Porco addio. Il cazzo di gente che c'è. Grazie. 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 On back. Oh. Piano. Ma li stai facendo giocare? Aspetta. Cioè. Non hai capito il successo e il disagio. Non posso pushare quei due. Se li pusho ci muoio. Guarda dove è stato in alto c'è il minican il tipo. Ecco. Ecco. Capito? Che disagiati. Eh? Eh? Cosa? Vabbè. Che fio. E mo' che fai? Non lo salvi il Gennarino? Non lo salvi il Gennarino qua sotto? Il Gennarino. Dai. Vai. Vai. Fai capoccella. Vai. Aspetta che scendi giù per salvare Gennarino io eh. Guarda Gennarino sta a morire frate. Sì sì. Rimani là. Rimango pure io qua. Ecco. Pure quello in macchina. Ma la mia impressione sta laggando. Oh. Oh. Minchia. Che devi fare in sta situazione? Cioè. Cioè. Io collegherei il tutto intanto. E giocherei ai ground. Cioè. Ce li hai lì. Così gli hai sceduto l'ai ground un pochettino. Sì ma il problema è che mi seccio pure gente dietro. Ma l'hai sentita o ce l'hai sentita? No no. Sentiti prima a sparare. Così sono quelli. Eh? Mi sono teleportato. Quali sono? Non lo so. Io. Io ti dico che preferirei stare su. Che giù. Eh ma non posso. Ora non posso andare su. Capito? C'è una pazza? Eh già. Eh già. Non ho preso la giampa. Eccolo. Eh già. Eh già. Va bene. Va bene. C'è ancora gente eh. Con due. Guarda. Che fatica sto game. Perfetto. Dai. Le ultime. Quattro. Eh? Oh. Non mi fa prendere gli oggetti. Non ti vuole fare vincere il game? Sì sì. Quanto è basso. Ah ho fatto forse 5 gold. 5 kill di pompa. Tutto questo. 5 gold. 5 kill di pompa. 5 kill di pompa avrò fatto. Non so più parlare. Ma che c'è uno là? Nei Marco il pompa. Madonna. Sto game è veramente solo tilted. Cioè. Sono rimasto solo qua tutto il tempo. No. Sei atterrati tilted. Basta è finito a tilted the game. Buon vicino situation. Mmm. Dove cazzo sono? No. A posto sei. Cazzo di alberi. Capisci qual è il problema? Spacca. Ah. Così mi cecchino. guardate tutto il giorno. Ah. Ah. Vedi. Se avevi l'albero fuori dalla vista. Vedevamo. Uno sniper? Ha uno sniper lui. E tu no? No. Mmm. Figa. Kill a snipe. Si. Sì. Sì. Si. Sì. Si. E basta. Ii. Esatto. Mmm. Sono molto forti. Niente. E' chiamato. No. 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 il latino in grida è quello c4 a destra? però quel fungo non è bad per salire subito un po' di materiali sei auto di matt? bella brevissima! che game del cazzo